Motivi personali e lavorativi quelli che hanno spinto Gabriella Spinelli a lasciare l'incarico di assessore al bilancio della città di San Cataldo. L'ex assessore, nella motivazione delle sue dimissioni, ha chiaramente spiegato che per sopraggiunti e improrogabili nuovi incarichi riguardanti le sue attività aziendali era diventata inconciliabile lo svolgimento della sua professione e quella dell'incarico con un'azione amministrativa efficace, continua e proficua. Così, dopo quanto scritto, a Palazzo delle Spighe sono da subito iniziate le interlocuzioni con le forze politiche di maggioranza per individuare il nuovo assessore. Intanto il primo cittadino di San Cataldo, Gioacchino Comparato, dice chiaramente che il lavoro svolto dalla Spinello è stato prezioso e che pur trattandosi di un momento molto particolare, nell'arco di qualche giorno ci sarà la nomina del nuovo assessore al bilancio.